Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di consumare degli oggetti raccoglibili a siepi d'agrifoglio. Quindi funghi, banane, mele, qualsiasi cosa che può essere consumata per rifornire il personaggio di energia o scudo. Potete fare la sfida in due modi. O atterrate direttamente a siepi d'agrifoglio e divorate quello che vi mostrerò adesso, oppure vi procurate dei funghi magari alla foresta frignante, andate qui e li consumate. Penso che anche in quel caso la sfida è valida perché chiede di consumare degli oggetti consumabili appunto qui. Non è difficile trovarli perché, diciamo, se atterrate qui dove vi ho messo il punto, qui, c'è un orto, vedete? Basta atterrare qui e consumarli. Naturalmente potete farlo in qualsiasi modalità, vedete? Premete l'apposito pulsante, li consumate e la sfida è completata.